Guarda, io raccolgo questo regalo con veramente grande emozione. Uno perché naturalmente conosco il valore dell'Associazione Genitori H24 e ricordo bene anche alcune manifestazioni che abbiamo fatto insieme quando abbiamo giocato delle partite di calcio, amministratori contro l'Associazione Genitori H24. E devo dire che naturalmente il tema che portano avanti, la tematica è un tema serio, veramente serio. È un tema per cui non dobbiamo assolutamente banalizzare e neanche fare ragionamenti di facciata. Il tema della disabilità è un tema che va affrontato con risorse economiche, con progettualità, con partecipazione, con condivisione. Per fare questo naturalmente non basta probabilmente l'esperienza di un'amministrazione sola. Occorrono finanziamenti e possibilità che vengono fuori da una linea politica che è quella del paese, quella dell'Italia che deve cercare di creare quelle condizioni perché il dopo di noi non sia un miraggio ma sia una realtà e dia una serenità ai genitori che vivono il patema d'animo di quello che accadrà di questi ragazzi. Io quindi con orgoglio ricevo questo calendario, lo metterò assolutamente nella mia stanza ma vorrei tanto che questo calendario fosse nelle stanze e nelle coscienze di tanti amministratori, di tanti cittadini perché naturalmente dobbiamo tutti svolgere un ruolo propositivo e soprattutto di collaborazione con partecipazione a chi è in difficoltà. Quando avremo raggiunto questo come obiettivo e come anzi modo di vivere quotidiano probabilmente saremo sereni per poter andare a letto con il sorriso sulle labbra. Ovviamente, anche perché Matera è capitale europea della cultura può essere un'opportunità anche per loro. Ma assolutamente sì. Allora Matera non vinge un concorso di bellezza. Matera non è capitale europea della cultura perché ha partecipato a Miss Italia. Matera ha partecipato al concorso che prevedeva un dossier di candidatura che era fatto di 40 domande, che prevedeva come la città si rappresentava e si metteva in connessione con l'Europa, con il Mezzogiorno, con l'Italia quali erano i passi che la città avrebbe fatto nel futuro perché non c'è una città più bella dell'altra in Italia. Le città italiane sono tutte belle. Bene, naturalmente noi siamo stati chiamati a rappresentare la cultura europea. Nella cultura europea c'è la cultura della civiltà contadina che è quella che ci appartiene. Per questo io non condivido, faccio una chiosa, l'intervento fatto dall'Onorevole Sgarbi quando vuole mettere in connessione Matera con Venezia. Noi siamo naturalmente italiani ma abbiamo una storia e una tradizione diversa. E anche identità diversa. E' un'identità diversa. Matera vince su una sua identità che è quella della civiltà contadina. Bene, in questo percorso di Capitale Europeo della Cultura io credo che la città sta già facendo i passi verso un miglioramento proprio dell'atteggiamento e della qualità della vita. Io credo che quindi anche in questo senso quando avremo superato il 2019 che non è un traguardo ma è una partenza noi ci troveremo sicuramente ad aver costruito il nostro futuro e anche il tema delle politiche sociali quindi della disabilità sarà un tema che sarà vissuto sicuramente con ottiche diverse. Naturalmente in tutto questo la capacità di interscambio che abbiamo con i visitatori della nostra città ci permette di aprire le porte delle nostre menti, ci permette di catapultarci verso realtà diverse in cui non soltanto doniamo la bellezza, l'ospitalità, l'accoglienza ma siamo in grado anche di essere percettori di segnali, di comportamenti, di atteggiamenti che faranno bene, ripeto, a tutta la città e ai suoi cittadini. Bene, allora abbiamo fatto un bel percorso, forse ci vorremmo un'altra ora addirittura per poter raccontarci tante cose belle, l'abbiamo fatto con Nico Trombetta che ringrazio Grazie a te Gino Chiedo sempre alla fine com'è stato questo gin tonic Ma è stata un'esperienza inebriante Bellissima, tu pensa che la prossima puntata sarà sulla storia della radio Quindi vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo, grazie a Nico Trombetta Ciao a tutti Il segnale orario Ciao a tutti, a giovedì prossimo Comunicazione commerciale